Rigassificatore, respinta la richiesta di stop del Movimento 5 Stelle, i grillini chiedevano di interrompere le procedure per la realizzazione dell'impianto, il no della maggioranza in consiglio. Una legge per rilanciare il termalismo, approvate dal Consiglio le modifiche alla legge sul settore termale. A Certaldo torna Boccaccesca, questo fine settimana torna la Kermesse dedicata ad artigianato ed enogastronomia. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto a maggioranza voto contrario di PD e Italia Viva, a favore invece tutti i gruppi di opposizione, un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiedeva al Presidente e alla Giunta regionale di interrompere qualsiasi atto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino e a richiedere invece nelle opportune sedi una valutazione per un'ubicazione alternativa all'opera. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato a partire dal Presidente della Regione, Eugenio Gianni. Io ritengo chiaramente questo dibattito molto intenso animato dall'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle che mi chiedeva di interrompere l'iter per l'autorizzazione del rigassificatore a Piombino. È stato un dibattito politico più che tecnico come era nella natura dell'ordine del giorno. È venuto fuori con molta chiarezza che sono contrari a continuare l'iter coloro che hanno votato a favore quest'ordine del giorno, ovvero Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, La Lega. Mentre abbiamo votato contro, abbiamo quindi respinto senza nessuno che si sia sottratto a questo, il terzo polo e il Partito Democratico. Ma io veramente rimango molto sconcertato perché qui non siamo a Piombino, siamo nel Consiglio regionale della Toscana, ovvero di una regione di 3.668.000 abitanti che ha la sua autorevolezza con posizioni nazionali. Vedere che ancora oggi, dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose, dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas, dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia. Che ci siano ancora queste forze politiche che votano per interrompere l'iter, insomma si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani, ai cittadini, alle imprese. Io ho voluto ribadire che sto facendo quello che mi dice la legge come commissario e sono fino al 27 ottobre data di scadenza per poter rilasciare l'autorizzazione impegnato a acquisire tutte le osservazioni, i pareri per rendere l'autorizzazione il più possibile perfetta e il più possibile vicina alle corrispondenze della gente. Accanto all'autorizzare il rigassificatore, presumibilmente, c'è anche il memorandum Piombino, ovvero le opere che saranno fatte a beneficio della comunità di Piombino e mi muoverò su questa strada. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle, dove la destra si è accodata, perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci e che dia sostegno e forza al nostro Presidente Eugenio Gianni. A me fa piacere che Gianni è intervenuto in aula, ha detto quello che di fatto ho detto io, le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore, perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo e a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno, ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante. Oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza. Quindi oggi la maggioranza tiene, questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire, ma la maggioranza che tiene su un atto così importante invece è la vera notizia che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro Governatore per procedere in questa direzione. È stata evidente in Aula l'enorme difficoltà del Presidente e Commissario straordinario Gianni nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice, cioè quella di interrompere, fare interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino da parte di SNAM senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale, quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge e soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi, perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse e stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili e esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili e quindi è assolutamente attinente a questo, la replica che è assolutamente attinente a questo piano e l'altra osservazione che ci sentiamo di fare è che le compensazioni di cui si parlano sono quelle che Piombino attende da molti anni e non possono certo essere sbandierate adesso perché sono qualcosa che alla popolazione gli è dovuta e poi Gianni deve prendere una decisione e in questo momento può fare il suo percorso oppure può continuare il lavoro, può cercare di accelerare i lavori di Snam in questo momento e portare avanti quel lavoro quando sa già che il governo uscente desiderava questo ma il nuovo governo per parola della leader di Fratelli Italia Giorgia Meloni in realtà ha già detto che vuole valutare dei posizionamenti diversi del rigassificatore quindi praticamente si ritroverebbe a fare adesso un lavoro del governo uscente con un governo entrante che fa un'affermazione diversa. Le responsabilità tecniche e il percorso giuridico e legislativo non spetta a noi ma le scelte politiche sì quindi la colpa o la responsabilità di questo del rigassificatore alla fine sarà su Gianni e non sul nuovo governo se decide di accelerare. Cambiamo argomento il Consiglio ha approvato all'unanimità la modifica alla legge regionale sul termalismo illustrata dal primo firmatario Marco Nicolai del Partito Democratico. Il provvedimento si compone di due articoli. Nel primo si specifica che la regione attua le proprie politiche di promozione e di sostegno al settore termale attraverso il programma regionale di sviluppo soprattutto con progetti di riqualificazione del patrimonio idrotermale di rigenerazione urbana. Con il secondo articolo invece si approva l'elenco dei 23 comuni termali della Toscana. Le interviste ad iniziare proprio dal primo firmatario della legge Marco Nicolai del PD. La proposta di legge di cui sono primo firmatario e che oggi è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale e ringrazio i colleghi per aver condiviso il senso di questo provvedimento vuole mettere in campo un'attenzione non solo sugli stabilimenti termali. Il termalismo in Toscana riguarda ben 23 comuni, molti dei quali anche se tanti non lo sanno sono nelle aree più periferiche e all'interno di questi territori non c'è solo la questione degli stabilimenti termali che ovviamente è fondamentale. C'è anche un indotto economico occupazionale che si è sviluppato nel tempo e c'è anche un tessuto urbano perché le terme dove sono state e dove sono fiorenti hanno permeato profondamente i singoli centri. Quindi la nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. Noi scendiamo chiaramente nella nostra legislatura anche un po' più nello specifico, per noi la questione è intervenire sulla rigenerazione urbana, ci sono molti immobili abbandonati o sfitti che ovviamente hanno bisogno di essere rigenerati, la questione della promozione, lanciamo l'idea di un marchio terme di Toscana con il coordinamento dei 23 comuni, chiediamo ovviamente un'attenzione per tutto ciò che è strutture ricettive e commerciali connesse agli stabilimenti termali e poi in generale un focus per quelli che sono gli stabilimenti termali di proprietà regionale, anche se ovviamente in questi 23 comuni gli stabilimenti termali sono sia pubblici che privati. Un'attenzione a tutto tondo che serviva un punto all'interno del nostro ordinamento regionale, questo punto è stato messo, da questo punto si riparte per un'azione che sia più strutturale e più continuata nel tempo anche dopo questa nostra legislatura. Sono anni che noi chiediamo alla regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo termini Montecatini e SPA, soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Invece la regione si è limitata nel corso degli anni a nominare amministratori contabili che in qualche modo hanno guardato ai conti e a gestire l'enorme debito che grava sulla società piuttosto che ripensare la collocazione delle terme nell'ambito, per esempio come Montecatini, di una città del benessere rivolta al futuro. Io sono soddisfatto che finalmente a distanza di anni dalla mia proposta si inizia a parlare di terme della Toscana, quello è l'obiettivo al quale da tempo lavoro, credo che serva un unico sistema di promozione, servano risorse, serva il fatto che la politica delle terme della Toscana entri a far parte del piano regionale di sviluppo, una programmazione che possa attivare fondi comunitari, da una parte promuovere il prodotto termale della Toscana ma nel contempo avviare un grande percorso di rigenerazione urbana delle città, soprattutto quelle che sulle terme hanno costruito gran parte del proprio sviluppo urbanistico perché dentro quella rigenerazione urbana ci sta qualità, ci sta benessere, c'è un'opportunità di rilancio e di sviluppo, non si può perdere il treno dei finanziamenti comunitari per avere città che possano fondamentalmente garantire un'offerta turistica e termale di altissimo livello e di grande qualità, quindi per questo noi abbiamo sostenuto questa proposta di legge e nel contempo sostenuto le risoluzioni che vanno in questa direzione e quindi noi abbiamo di fronte a noi un'opportunità importante per sostenere il prodotto e la rigenerazione delle città. In chiusura parliamo di eventi, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre torna a Certaldo Boccaccesca la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane, giunta quest'anno alla 24esima edizione. Nell'Antico Borgo arriveranno numerosi espositori provenienti da ogni parte d'Italia, mentre i grandi chef toscani daranno vito a dimostrazioni di cucina. Il programma della manifestazione, organizzata da Confesercenti con la direzione artistica di Claudia Palmieri, è stato presentato a Palazzo del Pegaso. È da annusare, da toccare, da guardare e naturalmente da assaggiare. Allora, in edizione siamo ritornati alla Boccaccesca di sempre, quindi con i nostri cuochi, con il nostro angolino dedicato a bambini, quest'anno di novità e gemellaggi che ci ha fatto un gran piacere a tutta la comunità di Certaldo. E poi, niente, cibo, arte e di nuovo cibo. Quanti espositori? Sono una quarantina, più o meno. Sono i numeri di solito di Boccaccesca che si basano sulla qualità più che sulla quantità. Certaldo è sicuramente uno dei borghi più belli della Toscana, ma è anche uno di quei borghi che è riconosciuto da tutti e noi in Consiglio regionale sono tante le iniziative che abbiamo presentato per la sua qualità, la capacità di saper produrre iniziative culturali di qualità. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza. La Toscana è anche una terra in grado di saper portare nel mondo le sue eccellenze enogastronomiche. Questa iniziativa, ormai alla 24esima edizione, riesce a rappresentare al meglio quello che siamo e quello che vogliamo essere. Tiene insieme artigianato, tiene insieme prodotti del territorio e li riesce a rappresentare sotto forma di spettacolo, qualcosa di unico, qualcosa di bello e di significativo e io sono felice davvero insieme al collega Enrico Sostegni e al sindaco Giacomo Cucini di poter presentare questa nuova edizione qui in Consiglio regionale. Per Confesercente è un grande onore poter organizzare questa manifestazione in quanto abbiamo proprio rinnovato il bando quest'anno per i prossimi tre anni ed è una manifestazione veramente per noi importante da organizzare perché non è la classica street food come ora siamo un po' assediati da tutte queste street food ma Boccaccesca è veramente una cosa diversa. Boccaccesca è il primo vero banco di cooking show che è stato fatto in Italia ancora prima delle trasmissioni televisive dei famosi cuochi in tv. I cuochi sono venuti prima di tutto a Boccaccesca a cucinare per la strada e questo ci dà veramente grande orgoglio. Boccaccesca è un contenitore molto importante per Certaldo, sono 24 anni che curiamo con grande soddisfazione questa manifestazione. Torna in un fine settimana importante a occupare tutto il nostro borgo medievale e anche la parte bassa del paese, un'organizzazione di Confesercenti, la direzione artistica assolutamente confermata di Claudia Palmieri e ritorna anche dopo due anni difficili, quelli della pandemia con edizioni molto più contenute, molto meno strutturate ad essere una Boccaccesca piena, piena di tutto il suo mercato gastronomico di grande qualità, con la presentazione dei prodotti toscani e non solo e con tutte le attività. Noi ricordiamo sempre che Boccaccesca è stata un po' precursore degli chef che si esibiscono davanti a un pubblico, ben prima di tanti programmi televisivi ora noti che poi hanno fatto la storia di un pezzo della televisione. Tornano quindi gli chef in piazza, torna il coinvolgimento dei bambini all'interno delle nostre attività che appunto hanno la possibilità di fare anche dei laboratori di cucina, torna anche un'altra iniziativa importante che è quella della piazzetta dei gemellati e quindi il coinvolgimento, quest'unione del gemellaggio dell'amministrazione comunale di Certaldo con tanti altri comuni in Italia e in Europa che appunto arrivano a Boccaccesca a presentare i loro prodotti tipici enogastronomici. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.